terminata domenica 3 settembre la seconda edizione del festival delle mongolfiere all'ipodromo santa artemio di treviso dopo grande successo della prima edizione con oltre 21.000 visitatori la kermes è ritornata in due fine settimana per dare la possibilità a chiunque di poter salire su una mongolfiera e provare l'emozione del volo con i giganti dell'aria è una cosa piuttosto facile come principio ma molto difficile da mettere in pratica perché non è direzionabile cioè l'unica cosa che pilota può fare è salire o scendere riscaldando l'interno della mongolfiera con la fiamma si sale lasciandola raffreddare si scende e quello che decide la direzione è il vento salendo ci sono differenti differenti direzioni del vento al seconda della quota si va in una direzione piuttosto che un'altra e uno cerca di portarla diciamo più o meno dove vuole quanta esperienza ci vuole per pilotare con una mongolfiera per quanto riguarda l'esperienza credo che sia una cosa soggettiva di ognuno di noi come a seconda di quanto uno sia portato o meno diciamo per pilotare una mongolfiera bastano 16 ore di volo e di cui 4 con un istruttore si fa un esame scritto e dopo un esame pratico se si supera questo si può volare da soli cioè si può comprare una mongolfiera e volare volare da soli per portare i passeggeri è un'altra storia bisogna fare tantissime ore di volo e diciamo dura all'incirca due anni quindi diciamo è abbastanza alla portata di tutti chi volesse può farlo si diciamo è quasi alla portata di tutti ecco se uno c'ha la passione l'altro ci vuole tantissima passione oltre alle mongolfiere anche laboratori esibizioni e visite guidate nelle scuderie dell'ipodromo come ti trovi qui qui è molto bello diciamo che il festival come questo è anche un modo per raggruppare i piloti che ci sono in italia e fare un po una riunione e volare tutti insieme che è sempre bello che volare da soli è molto meglio volare in compagnia si vedono altri palloni in volo è molto bello una bella esperienza grazie a tutti grazie a tutti